Molinaro sorridevo ma perché l'ospite che è arrivata è un uragano, una pazza. Buongiorno! 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 Vedete come sono arzilla a quest'ora del mattino? Ho preso 7000 caffè per stare da voi. E a proposito di caffè, perché vedo che avete questo caffè favoloso, Borbone, a me si è rotta la macchinetta del caffè. Ma chi ha già chiedere? No, il messaggio è arrivato, forte e chiaro, vai. Signori Borbone! Signori Borbone! Signori Borbone! Mi si è rotta la macchinetta, quella lì a casa. Non so, mettiamoci in contatto, una bella macchinetta, che dite? E poi vi invito a prendere il caffè. Oppure potete andare a teatro alla Sala Umberto dal 17 al 29, volevo nascere scema per non andare in guerra. Questo titolo quando lo hai scelto, Barbara? Allora, questo titolo ce l'ho in testa da tanto tempo. Ci diciamo che sono un paio di anni, ormai sono arrivata a questa veneranda età, di senza anni e sono a metà, come direbbe Dante, del mezzo del cammino della mia vita e da un paio d'anni ho pensato, ma fosse fosse che dovevo forse nascere un pochino più scema per soffrire un po' di meno, per capire quello che mi circonda un po' di meno e magari prendere un po' tutto con più leggerezza. Per cui la guerra che tu usi nel titolo è una metafora, stiamo vedendo una guerra reale. Infatti quando ho scelto il titolo di questo spettacolo, assolutamente, è un proverbio tra l'altro molto napoletano, perché da noi si dice fa scema per noi la guerra, in particolare il termine utilizzato scema da noi a Napoli è utilizzato in un'accezione completamente diversa, nel senso molto leggera, come per dire, addirittura viene utilizzato per dire se fai la furba, per non andare, sei astuta, cioè sei più intelligente, quindi eviti di andare. Fai finta di essere finta. Fai finta, ecco. E poi quando è scoppiata la guerra c'è stato un momento in cui io ho detto ok, cambiamo titolo, ne ho parlato con i miei autori, con la produzione, siamo stati molto, molto toccati, ecco, come tutti. però poi mi sono detta, forse ancora più in particolar modo, ci ho tenuto a tenere il titolo dello spettacolo perché, ecco, mi faceva piacere proprio questo. Sarebbe così bello diventare tutti scemi. Esatto. Sì, 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 ecco, proprio in questo particolare momento. Può essere un pochino di meno, essere meno curdi. Un pochino di meno, infatti, io non farò riferimenti alla guerra se non, ecco, in alcuni monologhi perché poi è l'insieme, questo spettacolo, dei miei monologhi e però... Infatti è proprio lo spettacolo che poi dà il senso anche al titolo e come lo racconti e i tuoi sorrisi e la tua storia, è uno spettacolo che fa ridere e riflettere nel modo giusto. Sì, sì, perché noi combattiamo tutti i giorni comunque battaglie, noi donne qualche volta in particolar modo di più, ma io ci scherzo e ironizzo su tutto, io non posso né giudicare, né faccio la morale nel mio spettacolo. Chi sono io per giudicare? Me stessa, figuriamoci gli altri. Per cui io combatto, ma con le buche qua a Roma, combattiamo tutti i giorni. E da lì è nato lo spettacolo, nella tua quotidianità. Sì, assolutamente sì. La nostra meravigliosa quotidianità. Assolutamente sì, non combattiamo pure contro i carboidrati radicali liberi. Punto, quello di sé. Se sono così liberi, io dico, ma perché non l'arrestano? Cioè, in realtà è una battaglia continua. Ahimè. È sempre un piacere andare ad applaudire Barbara, perché attraverso la scrittura sua e dei suoi collaboratori arriva poi a servirci un piatto di intelligenza, di varietà mai volgare. Ci provo, di leggerezza. Ecco, questo spettacolo, proprio in questo momento storico, e quindi molto legato anche al titolo, invece spero che abbia un effetto proprio opposto e contrario, cioè di portare un po' di leggerezza a quest'oretta, oretta e mezza, non di più, non è un sequestre persone, ma per stare insieme e quindi sorridere. Si affaccia una Lucarelli, una Bortone, o non ce lo puoi dire? Scusa, amore mio, secondo te non sono pazzesca. Per forza una pazzesca deve stare in questo spettacolo. È uno spettacolo di una napoletana e non posso che non esserci anche io, che sono Mirta Merlino, che sono pazzesca, più napoletana dell'Annunziata, più rauca della Gruber e più abbronzata di Carlo Conti. Pazzesca. No, vabbè, vabbè, vabbè. Identica. Però sai che io sono uno degli affetti stabili di Serena. Amore mio. E mi mandi, quando io sono serenuto nel salotto di Serena Bortone, mi arrivano i messaggi della foria. Amore mio, sei un mio affetto stabile, poi poi se è Pino l'aspetto, saremo tutti quanti insieme, venghi per teatro. Amore mio, sei un mio affetto stabile, ti amo, sono Serena, sono la colonna della TV italiana, ma che dico colonna, sono una semplice ragazza, 90, 60, 90, a cui vale un monumento. Alla calo un belto. Quello del calcio, vediamo un estratto di quello del calcio. Sì, è una pazza stupenda. Lei è non la Bortone. Ed è ancora con noi Serena Bortone, ben trovata. Chi è? Chi è? Che ti volge la domanda scagliandoti la penna, sono quelle come me. Lo sai che c'è? E se voi non ne parliamo, e quindi la finiamo, ma poi è peggio per te. Guarda chi c'è. Immigrato spilungone, e l'altro col musone, ma io vengo da te. Hai l'amore, che cosa hai? Serena, complimenti. Devo dire che hai una bella voce. No. Guarda che se ne accorge che la prendi in giro. Grazie, te la dedica. Grazie, tesoro. E la dedicata a te, lo sai che ti siamo tantissimo, come giornalista, come donna, ma soprattutto come indossatrice, di pagliaccetti le ho guardate. So che per te dura lavorare con Luca e Paolo, non vorrei essere nei tuoi panni, chi ci vorrebbe lavorare? Anche perché tutti i tuoi panni, diciamo, mi coprirebbero giusto due falange e una caviglia. No, vabbè, Serena, lei però scherza sempre, ogni tanto da una giornalista vorremmo anche un po' di serietà, forza, su. Luca, amore mio, so che la vita ti pone degli ostacoli difficilissimi da superare, per esempio come scegliere la fascetta del Gesudore. È vero, amore mio, quando fai finta di far palestra nelle tue storie di Instagram? Io non faccio finta. Non è la fascetta del Gesudore? No. Vogliamo dire la fascia elastica, va meglio? Non è. La pancera va bene. Non ce l'ho la fotografica. Eh, vabbè. Comunque Serena, Spiritosa, Intelligente, si diverte moltissimo. Ah, ma io ne sono sicura, lo so, perché l'ho sentita, sono andata anche a svedere a lei, vabbè, perché devo dire che cerco di imitare, di imitare? No. No, non sono imitazioni. No, le mie non sono imitazioni. Ho detto, io cerco di fare la parodia di personaggi intelligenti. Eh, certo. A proposito di personaggi che interpreti, che vorresti interpretare? Hai detto che vorresti un bel ruolo drammatico al cinema. Perché? Ecco, lo dico da anni, perché secondo me, questo poi è una cosa che voi lo sapete, Pino, da sempre, secondo me, l'attore comico ha questo lato drammatico, invece, questo angolo nascosto, che poi tante volte non è neanche molto nascosto, a volte forse addirittura predominante. Per cui, secondo me, a un certo punto si sente l'esigenza di questo, ma in Italia non è tanto facile. Cioè, voi direte, perché? E beh, perché qualche volta se vieni etichettata come un'attrice comica, se vieni etichettata come una monologhista, ad esempio, nel caso mio, che parla magari di una tipologia di argomenti, è come se non vieni presa in gran considerazione. Cioè, o comunque non, a volte neanche considerata, ma non per una questione di bravura o meno, perché per carità io faccio provini e quindi, e poi il regista che deve decidere. è che certe volte non mi si pensa proprio. Certo, certo. Fino ad oggi adesso vedremo. Ricordiamo che Barbara Foria è qui con noi al nostro tavolo rosso e perché è un'amica e perché ci vuole bene, ma anche per ricordarci che dal 17 fino al 29 maggio alla Sala Umberto, un teatro bellissimo nel cuore della città, in scena con Volevo Nascere Scema per non andare in guerra. Donne e comicità. Adesso hai fatto questo discorso che giudichiamo un po' per un ruolo drammatico, si pensa alla Foria e la si classifica solo al comico. Il femminile e la comicità, penso a Franca Valeri, penso a Anna Marchesini, penso a donne comiche, in fondo anche lì ne abbiamo meno storia sulla donna comica rispetto al maschio. Eh sì, perché anche lì è una battaglia, è una grande battaglia che poi ultimamente negli ultimi anni si sta, diciamo, qualcuna si è vinta, penso a Virginia e Raffaele che siamo andati a vedere a teatro da poco, ma tantissime attrici comiche, Federica che prima è stata ospite da voi, Paola Minaccioni, Lucia Ucone, ma ce ne sono tantissime, tante amiche, colleghe, penso a quelle magari, la Cortellesi, diciamo ormai, stiamo parlando di quelle dell'impero, per cui sicuramente sì, però ecco, le nominiamo, cioè nel senso che numericamente siamo sempre inferiori, quindi anche lì è una bella battaglia rispetto ai colleghi uomini e io ormai anche questa battaglia l'ho vinta perché soprattutto i primi anni che facevo stand-up comedy e quindi io ho fatto la vera gavetta perché secondo me ecco lo dico a tutti quelli che vogliono intraprendere questa carriera che comunque la gavetta è fondamentale quindi dai pub ai locali alle piazze che la cosa che mi è sempre stata detto tu farai strada perché sul palco hai ecco quegli attributi che è una cosa bruttissima che viene detto continuamente alle donne come uomini che è una cosa secondo me dico ma perché uno ha da avere gli attributi maschili per essere in gamba per essere che non lo possiamo dire sempre perché siamo diciamo al mattino qui ecco e non va bene questa cosa non è una cosa bella perché secondo me non c'è bisogno di avere gli attributi maschili c'è bisogno di avere tanta intelligenza quella che tu hai e forse anche una laurea io pensavo una laringite dico mamma che ti vuoi dare una laringite che questa sta per andare in scena pure i celotti ma mai ma mai nella vita lei lo sa una laurea niente oggi non va in giurisprudenza sì perché tu ce l'hai e poi volevi diventare potevi diventare addirittura un avvocato penalista e poi pazzesca l'avevi fatto pure più sordo sicuramente come avvocato penalista in Italia da noi poi ancora di più con tutto l'amore che abbiamo per la nostra terra però poi a un certo punto hai cambiato strada per fortuna direi però c'è stata qualcosa che cosa è scattato hai detto una lunga gavetta davvero l'hai fatta lunga ti sei divertita ci hai fatto sognare però c'è qualcosa che in te ha dato il là ma no io in realtà il mio grande amore è stato prima di tutto quello per il teatro e per il cinema e quindi per l'arte e la giurisprudenza è stata quasi una sorta di non dico ripiego perché poi come tipo di studio vengo da uno studio classico perché ho fatto liceo classico per cui quando mi sono approcciata al diritto dicevo ma mo che è sta roba cioè per me era un incubo gli esami sostenere gli esami quelli di economia politica cioè della roba proprio commerciale diritto commerciale quanto ti capisco mamma mia io proprio piangevo e dicevo ma perché devo stare sui libri ma perché devo stare qua che io vorrei stare a teatro però quella è stata un'altra battaglia vinta l'ho fatto perché ecco la mia famiglia mia madre la mia famiglia tutta ci teneva particolarmente che io potessi ecco laurearmi e poi perché ho quest'arsoratoria che in realtà mi contraddistinto questa ce l'hai quindi e quindi hai servito anche quello ad arrivare a teatro abbiamo perso un avvocato ma abbiamo guadagnato un'aforia 17 fino al 29 maggio sala Umberto posso ricordare gli autori che hanno quella è la telecamera al volo e poi noi vi salutiamo prima allora Stefano Vigilante Fabrizio Testini Alessandro Clemente sono i miei autori che saluto con la regia di Claudio Insegno che ormai diciamo è una coppia di fatto quindi che da anni corriamo insieme Claudio ci vediamo alla sala Umberto e noi alla prossima puntata grazie ragazzi